Bentornati sul canale YouTube di Mr. Gadget, oggi per guardare un po' più da vicino, a distanza di più di un mese dall'inizio del suo utilizzo, iPhone 14 Pro Max. Prima di cominciare, una cosa importante, iscrivetevi al canale di Mr. Gadget.tech, attivate la campanella e mi raccomando, seguiteci anche sul nostro sito internet. Perché non ho iPhone in mano per fare la sua recensione? Perché in questo momento sto girando proprio con la nuova fotocamera frontale di iPhone 14 Pro Max, quella che rimane da 12 megapixel ma aggiunge l'autofocus e questa è una delle novità importanti. Perché se è vero che iPhone 14 in realtà non cambia molto rispetto al modello precedente, invece iPhone 14 Pro Max introduce molteplici novità. E probabilmente una di quelle che userete di più sarà proprio quella dell'autofocus sulla fotocamera frontale. E poi c'è la novità invece sulla parte posteriore, il nuovo sensore da 48 megapixel. Facciamo scorrere un po' di immagini che sono state catturate con iPhone 14 Pro Max e in particolare con il suo sensore principale da 48 megapixel. Qui diciamo che bisognerebbe, prima di cominciare a valutare queste immagini, discutere su quale tipo di immagine si vuole catturare attraverso lo smartphone. Perché questo è un dibattito che è stato aperto per un lunghissimo periodo. Siete tra quelli che vogliono delle foto super sature come quelle che spesso fanno gli smartphone di origine asiatica? Oppure volete qualcosa che magari non è così eclatante ma che rispecchia la realtà dei fatti, quello che guarda anche il vostro occhio? Ecco, se la risposta è la seconda, allora queste foto vi appagheranno sicuramente perché sono onestamente molto molto belle. Sono delle immagini con una maggiore fedeltà, con anche un senso di profondità più spiccato, che a me piace molto, sempre però mantenendo la fedeltà del colore, che è uno degli aspetti ad esempio che io cerco in assoluto di più. L'altra novità sulla fotocamera riguarda invece i video, perché è stata introdotta la cosiddetta action mode. Qui si apre un altro dibattito, ha ancora senso comprare uno stabilizzatore, un gimbal, ha ancora senso comprare una action cam se non ci sono specifici bisogni di isolamento dal freddo, dall'acqua? Ve lo chiedo perché con effettivamente questa action mode, che in questo momento state vedendo in azione, la stabilizzazione viene veramente migliorata in modo significativo. E quindi, insomma, il comparto fotocamera di iPhone 14 Pro Max fa un salto in avanti notevole. Vi ricordo che queste immagini che state vedendo sono girate proprio con iPhone 14 Pro Max, con la fotocamera frontale. Dynamic Island Vabbè, dillo con parole tue, no? Allora, Dynamic Island è un tema che è difficile da affrontare. Perché? Secondo me la Dynamic Island ha da un certo punto di vista una forza di rompente, perché rende un problema un'opportunità, con qualche cosa di divertente, con qualche cosa che insomma rende un po' animato quel buco lì al centro del display. Però, in tutta onestà, non è che cambi l'esperienza d'uso, non è che cambia il telefono, non è che vi porta a comprare uno smartphone che altrimenti non avreste comprato. Diciamo che è un gimmick molto interessante, è un modo carino di Apple di implementare una funzione che tutto sommato rende anche dinamica appunto una parte del telefono che prima era morta. Allora, diciamo che non è la ragione per cui comprerete, se lo farete, il nuovo iPhone 14 Pro Max. Però l'idea è simpatica, sicuramente vedremo un'implementazione dell'utilizzo sempre più intenso con il passare delle settimane. Beh, devo dire che questo ovviamente non può che essere cosa positiva. Mi preme però sottolineare anche un altro dettaglio, ovvero quello dell'Always On display. Quando hanno cominciato a trapelare queste notizie sull'arrivo di questa modalità sui display di iPhone 14 Pro abbiamo sentito un sacco di considerazioni del tipo sì, ma Android lo fa già da anni, però la verità è che iPhone 14 Pro lo fa in un modo diverso perché lo schermo rimane praticamente sempre acceso, rimane quindi sempre visibile una parte delle informazioni mantenendo addirittura anche i colori. Questo dipende dalla magia di ridurre addirittura ad un Hertz, cosa che fanno anche altri produttori, il display quindi con un consumo praticamente quasi a zero, però bisogna dire che l'implementazione dell'Always On display è diversa e migliore rispetto a quella di tutti gli altri. Avrei voluto provare il servizio satellitare, mi sarebbe piaciuto tantissimo, sappiamo che è disponibile solo per il Canada e per gli Stati Uniti. Chissà che prima o poi non arrivi anche da noi. L'altro aspetto invece è quello che noi sappiamo non ci riguarda, è quello dell'eliminazione del cassetto della SIM, però probabilmente è solo una questione di tempo, arriverà anche da noi in Europa. Quello che non proverò, ma perché amo troppo la mia automobile, perché questo succeda, o meno spero di non doverlo mai provare, è il servizio di cross detection. Avete visto che qualcuno l'ha fatto prendendo un'automobile e andandosi a schiantare contro un muro usando un telecomando senza nessuno all'interno dell'automobile e il sistema ha funzionato correttamente. Quando c'è un impatto viene diramata un'allerta, viene chiesto di rispondere a delle domande, se questo non succede viene chiamato immediatamente il servizio di emergenza comunicando anche qual è la posizione in cui ci si trova. Insomma l'augurio è di non usarlo mai, bello però l'idea di averlo. Allora, potremmo stare qui 49 minuti e mezzo, forse anche un'ora, a disquisire delle novità di iPhone 14 Pro Max, ma in realtà queste sono quelle veramente significative. Lo smartphone, lo abbiamo già detto, non è rivoluzionario rispetto al passato, il nuovo processore fa un salto in avanti del 10%, ma non è tantissimo rispetto a salti che invece erano stati fatti da una generazione all'altra di processori in passato. C'è sicuramente il tema della fotocamera e poi quello della Dynamic Island. Dal primo utilizzo mi pare che la batteria sia tutto sommato simile alla durata dello scorso anno, anche se qualcuno ha trovato delle notevoli difficoltà con la batteria dopo l'aggiornamento da iOS 16. Questo può essere quando c'è un passaggio da una generazione all'altra di sistema operativo, diciamo che qualche spuria può rimanere che genera poi dei consumi anomali. Io sono riuscito ad esempio a risolvere nel passaggio tra 14 e 15, iOS 14 e iOS 15, uscendo dall'account Apple ID e poi rientrando. La rottura di scattole è che bisogna reimpostare tutte le carte di credito del Apple Wallet, tra le altre cose. Però in generale un iPhone che è veramente super quadrato, un iPhone che prosegue in un percorso tracciato molto chiaro, se non vi piaceva ieri continuerà a non piacervi anche oggi, non c'è discussione. Se vi piaceva ieri vi piacerà ancora di più. Il tema è a chi si adatta questo smartphone e a chi vuole uno smartphone, un cellulare pratico senza tanti gimmick, ma con soluzioni tecnologiche che poi si usano davvero nella vita di tutti i giorni. Io insisto su un dettaglio, se non avete ancora un iPhone e proverete la migrazione tra un iPhone e l'altro, probabilmente non tornerete mai più ad Android. Perché questo tipo di funzionalità vi fa capire immediatamente che Apple non va tanto alla ricerca della tecnologia fine a se stessa, ma di una tecnologia che sia utile nella vita di tutti i giorni. Ciò detto, io uso un po' uno, un po' l'altro e contenti tutti. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, qualche curiosità che riguarda iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, AirPods Pro 2, qualunque cosa, ovviamente siamo sempre a disposizione attraverso tutti i canali di contatto, i cosiddetti Touchpoint che avete con MrGadget.tech. Vi aspetto, grazie per avermi seguito, vi ricordo che se seguite il canale trovate anche le prove di Tecnolaura, in qualunque momento siamo pronti a rispondere ad ulteriori approfondimenti. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Vabbè, ti stai raccomandando, dai, iscrivetevi. Grazie 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 Grazie